Tanti volti nuovi a Sondrio Calcio, già al lavoro assieme ai compagni sotto lo sguardo di mister Omar Nordi, tecnico piemontese che al suo primo anno sulla panchina bianca-azzurra ha centrato un settimo posto in Serie D, miglior piazzamento di sempre per la società valteinese. Un primo anno davvero positivo a Sondrio. Sì, sì, abbiamo fatto una grossa stagione che però è già alle spalle, dobbiamo resettare tutto perché non dobbiamo dimenticare la nostra realtà e siamo qui oggi nel primo giorno, nella nuova avventura. Quest'anno ovviamente la salvezza è l'obiettivo stagionale. Certo, sì, sì, sì. Come dicevo prima noi non dobbiamo mai dimenticare il logo che abbiamo sulla maglietta. Guardando questa sua esperienza a Sondriese che cosa le piace del calcio in Valtellina, del fare calcio in Valtellina? Ma io sono arrivato l'anno scorso, tardi diciamo, perché sono arrivato a metà luglio. Mi sono trovato bene subito per quanto riguarda la proprietà, mi sono trovato subito bene, mi è piaciuta la città, sto bene ed eccomi di nuovo qua, non ho avuto dubbi e sono di nuovo qua a lavorare. I ragazzi di Mister Nordi restano alla Castellina fino al 7 agosto. Quel giorno, alle 19, la prima amichevole contro la formazione elvetica della Valposchiavo. Dall'8 agosto i Biancazzurri saranno in ritiro a Bormio. Il 25 agosto è il primo impegno ufficiale con la Coppa Italia di Serie D, calcio d'inizio del nuovo campionato il 1 settembre. I gironi verranno svelati a breve ma già si possono individuare gli avversari più ostici. Elevando la vecchia C2 è diventato un campionato importante. Poi in questo girone, almeno nel girone dell'anno scorso, il girone B della Serie D è uno dei più difficili in Italia sicuramente. Alle griglie di partenza, il Seregno è una fuoriserie, la Prosesto stessa cosa. Non solo il Mantua, se lo mettono in questo girone sarà una delle prime tre sicuramente, insieme alle altre due. La Caronnese, se è in questo girone, tutti gli anni fa un campionato importantissimo. Il Villa Dalmè ha speso soldi importanti e ha fatto una squadra importante. Magari dimentico qualcuno. Poi c'è sempre la neopromossa come siamo stati noi l'anno scorso, la matricola terribile. E poi qualche sorpresa. Magari è il Sondrio. Magari è il Sondrio. Magari è il Sondrio. Magari è il Sondrio.